Le facciamo sentire, segretario Camusso, che cosa ha detto ieri Salvini, proprio a proposito del rapporto tra governo e sindacati intorno alla manovra. Oggi ho visto con soddisfazione che la CGL boccia la manovra, vuol dire che la manovra è fatta bene. Se la manovra non va bene alla Camusso, vuol dire che è una manovra che punta sul lavoro, sullo sviluppo, sull'impresa e sulla crescita. Allora, che risponde a Salvini? Gli rispondo che come sempre non ha un argomento, ma cerca un nemico. Sì. E la vostra, diciamo così, mutua inimicizia, mettiamola in questo modo, dove vi porterà rispetto alla manovra? Cioè, sono previste agitazioni, scioperi? Che cosa pensate di fare sotto il profilo della mobilitazione? Innanzitutto, noi chiediamo che il governo apra una discussione, lo diciamo rispetto al sindacato, rispetto all'associazione d'impresa. Si esca da questa logica per cui c'è una contrattazione tra due. C'è invece un interesse generale del Paese che è fatto anche dalla rappresentanza, dal poter discutere, dal poter verificare. Dovrei dire anche dal poter conoscere, perché testi effettivi di questa manovra dei collegati continuiamo a non averli e quindi a parlare per progressive indiscrazioni. Quindi, questo è il primo passo che va in parallelo a una scelta di Unitaria, di Cigiele e Cislewil, di andare a discutere con tutti i nostri delegati, con i lavoratori nelle assemblee. Perché penso che ci sia stata, come dire, molto rancore, molto rincorsa, molta campagna. C'è bisogno invece di ricostruire qualche ragionamento, di vedere l'oggi e avere anche una prospettiva sul futuro. Certo è che se il governo non aprirà un confronto, non ci saranno risposte sul merito, poi decideremo come sostenere con la mobilitazione le nostre rivendicazioni.